Bellissima vittoria della SEAP da Licardillo guidata da Luca Secchi nel campo della Fiamma Torrese Volley di Torra Annunziata con il punteggio di 3-1. Con tre partite e tre vittorie la SEAP da Licardillo-Aragona rimane saldamente in vetta al campionato di Serie B1 a pari punti con il Cerignola. Questi parziali 25-23, 13-25, 21-25 e 22-25. Tre punti meritati per le Biancazzurri al termine di una partita difficile da tratti equilibrata caratterizzata dai tanti errori. La SEAP da Licardillo-Aragona ha vinto contro un avversario che ha lottato fino alla fine. La squadra dei Templi ha schierato il sestetto tipo con Trabucchi in palleggio, Aricò posto, composto e Marzano centrali, Donà in moneta, Marcelli ricevitori, vittorio libero. Nel corso del primo set la schiacciatrice Patti è subentrata per alcuni punti a Ramona-Aricò. Nel derby in siciliano del basket agrigento vince contro Capodorlando e porta a casa con sé due punti fondamentali. La squadra di Cagnardi vince con il punteggio di 59-68. Il coach Cagnardi afferma Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, venivamo da un derby perso davanti ai nostri tifosi. Pensavo di trovare una squadra un po' più lucida in fase realizzativa, non voglio puntare il dito contro i miei ragazzi. Anzi, faccio loro i complimenti per l'atteggiamento, non si sono mai disuniti. Siamo molto contenti di aver vinto un derby, la classifica aveva bisogno di due punti. Capodorlando ha giocato una partita gagliarda, gli faccio i miei complimenti.